Madame Gallard Ma la morte non venne. In sua vece venne qualcosa che nessuno al mondo avrebbe potuto prevedere e che nel paese non sarà mai avuto, e cioè una rivoluzione, vale a dire una rapidissima trasformazione di tutti i rapporti sociali, morali e trascendentali. In un primo tempo questa rivoluzione non ebbe ripercussioni sul destino personale di Madame Gallard. Ma in seguito, lei aveva ormai quasi 80 anni, dall'oggi al domani risultò che colui che le passava al vitalizio dovette emigrare, fu espropriato e i suoi beni furono venduti all'asta a un fabbricante di pantaloni. Per un certo tempo sembrò che neanche questo mutamento provocasse conseguenze fatali per Madame Gallard, perché il fabbricante di pantaloni continuò a pagare puntualmente la rendita. Ma poi venne il giorno in cui lei ricevette il denaro non più in moneta sonante, bensì sotto forma di foglietti di carta stampata, e questo fu l'inizio della sua fine materiale. Nel giro di due anni la rendita non bastò più neppure a pagare la legna da ardere. Madame si vide costretta a vendere la sua casa a un prezzo ridicolmente basso, perché ad un tratto oltre a lei c'erano altre migliaia di persone costrette ugualmente a vendere la loro casa. E di nuovo, come controvalore, ricevette soltanto quegli stupidi foglietti, che di nuovo due anni dopo non valevano più nulla, e nell'anno 1797, ormai si avviava ai 90, aveva già perso tutto il suo patrimonio, accumulato a fatica con un lavoro secolare, e prese dimore in una minuscola camera ammobiliata in Rudeco Quiles. E soltanto allora, con dieci, vent'anni di ritardo, venne la morte, e venne sotto forma di una lunga e complessa malattia tumorale, che prese Madame alla gola e la privò prima dell'appetito e poi della voce, di modo che, quando fu trasportata all'hotel di Eau, non poté spendere neppure una parola per sollevare obiezione. La la portarono nella stessa sala, affollata da centinaia di persone in fin di vita, in cui già era morto suo marito, la misero in un letto assieme ad altre cinque vecchie donne del tutto estranee, dove giacquea corpo a corpo con le altre, e la la lasciarono morire per tre settimane, sotto gli occhi di tutti. Poi misero il suo corpo in un sacco che fu ricucito, alle quattro del mattino, lo gettarono su un carro da trasporto insieme con altri cinquanta cadaveri, e al fievole tintinio di una campanella lo portarono al nuovo cimitero di Clamert, a un miglio di distanza dalle porte della città, e la la dagiarono in una fossa comune per l'estremo riposo, sotto uno spesso strato di calce viva. Questo avvenne nell'anno 1799.